a cash or trash sta arrivando carolina con un oggetto che le è stato regalato ma di cui non conosce l'effettivo valore portato un oggetto molto particolare si tratta di un regalo di un artista contemporaneo che ha portato a mio padre circa metà degli anni 70 alessandro che cos'è? apparentemente un vaso la forma è un po' quella si può considerare un fiore solo no no diciamo che non nasce per l'uso di quel tipo lì non è un vaso portafiori come si dice no è proprio una scultura non c'era una mica a forma di vaso